partita dunque la quarta serie dei due dorsi assoluti femmine presentiamo la numero tre Greta Pavana alla uno Camilla Simici alla due Martina Buttazzoni alla tre Anade Feo in quattro Deborah Bernardi in cinque Greta Longoro in sei Giorgia De Mas Micheluto alla sette Morgan Faronato in corsia numero otto e dunque premiazioni che probabilmente a sto punto verranno spostate nel prossimo blocco chiediamo conferme aspettiamo risposte dai ragazzi dell'organizzazione del CN Rosà intanto c'è stato segnalato purtroppo un fatto davvero spiacevole nella giornata di ieri perché è stato rubato a una ragazza un costumone della spido nero da donna è davvero un fatto spiacevole perché queste manifestazioni sono organizzate per divertirsi soprattutto oltre che a nuotare e preparare la propria stagione agonistica quindi noi speriamo e ci auguriamo che questi fatti non accadano più e possiamo terminare serenamente questa manifestazione grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti e dunque ci dicono dall'organizzazione ragazzi liberi pure di andare a sciogliervi dopo i due stile perché quelle premiazioni verranno messe nel secondo blocco ovvero durante la prova dei 200 rana femminili intanto si va a completare la serie numero 4 del dorso con Giulia Fraccaro specialista dello stile libero 805 mila vince in due 23 e 29 questa serie numero 4 alla partenza le ragazze della terza serie pavanzi in cici buttazioni de feo bernardi ongaro demas micheluto e farronato